L'aria avvolge completamente il nostro pianeta. Essa si estende per molti chilometri in altezza e prende il nome di atmosfera. L'aria è un miscuglio di gas, composto per la maggior parte da azoto e ossigeno, e in piccola parte da anidride carbonica e altri gas. Senza l'atmosfera non ci sarebbe vita sulla Terra. Essa ci protegge dalle radiazioni solari e rende il nostro pianeta un habitat perfetto per piante e animali. Gli scienziati hanno diviso l'atmosfera in cinque strati. La troposfera, la stratosfera, la mesosfera, la termosfera e l'esosfera. Mano a mano che si sale, l'atmosfera si fa più rarefatta, cioè contiene meno gas. La troposfera è lo strato più vicino alla superficie terrestre. Nella troposfera operano gli agenti atmosferici, come pioggia, neve e vento. Sopra la troposfera si trova la stratosfera. La stratosfera contiene lo zono, uno speciale gas che assorbe la maggior parte dei raggi ultravioletti del Sole e altri raggi provenienti dallo spazio che sono nocivi per gli organismi viventi. La mesosfera si estende sopra la stratosfera. In questo strato si disintegra la maggior parte dei meteoriti che cadono sulla Terra. La termosfera si estende sopra la mesosfera. La termosfera include la ionosfera, una zona dell'atmosfera piena di particelle che generano il fenomeno dell'aurora boreale. L'esosfera si estende tra i 500 e i 1000 km sopra la superficie terrestre. I gas qui sono estremamente rarefatti e possono anche sfuggire nello spazio.